C'è una scena che ci conosce. Allora, dobbiamo sapere che la mia collega si è prestata come modella quest'oggi. Ebbene sì. Col maestro? Col maestro Gino. Gino, eccoci qua, guarda. Allora, questa è la sua creazione, fatta in 11 minuti praticamente. E Gino ci guarda un po'. Ah, c'è anche il fiocchettino. È bellissimo. E poi ci insegna una cosa importante, mai sottovalutare gli attrezzi, gli oggetti di tutti i giorni, le cose banali, perché se non sai che cosa metterti, basta prendere un po' di cellophane, vero? E ti trasformi? Fanno un po'. Passa un po' di creatività e tanta maestria. In un'abito da sera in una principessa. Ti manca la corona, però. Dov'è la corona? Comunque tutta l'opera la possiamo... C'è la corona. C'è la corona. Prego maestro Gino. Oh, finalmente ho la mia incoronazione ufficiale, qui a Tambur Batten the Show.